Qual è stato il primo materiale da costruzione utilizzato dall'uomo? Senza alcun dubbio, il legno. Con questo video apriamo una nuova rubrica sui materiali da costruzione, sul loro sviluppo nella storia, sulle loro caratteristiche e sulle innovazioni attuali e future. Per molti questo video, come anche i primi video, sugli altri materiali che affronteremo potrà sembrare un po' scolastico, ma è essenziale per fornire a tutti le nozioni base necessarie per comprendere tematiche più complesse ed avanzate. In ogni caso, fateci sapere nei commenti se questo tipo di video possono essere di vostro interesse e poi mettete like, condividete, iscrivetevi al canale e tutte quelle altre cose che non ce la faccio più a dire, ma se non le dico i miei giovani badanti qua dietro, insomma, gne 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 gne, non hai detto, non hai fatto. Vabbè, andiamo a cominciare. Quando un uomo ha sentito la necessità di abbandonare i rifugi naturali offerti da rupi e caverne, ha preso dei rami, li ha intrecciati per creare dei semplici ripari di fortuna. In altre parole, ha iniziato a costruire. Cerchiamo ora di conoscere meglio questo materiale e le sue proprietà. Il legno è un materiale naturale, totalmente biodegradabile e rinnovabile, il che lo rende una scelta decisamente ecologica ed attuale per le costruzioni. La sua produzione richiede meno energia rispetto a quella di altri materiali. L'approvvigionamento del legno può essere continuo, riducendo l'impatto ambientale, ovviamente, se la sua produzione è gestita in maniera sostenibile. Cosa significa? Il legno ecosostenibile è raccolto da foreste gestite in maniera etica e responsabile, in cui ogni albero tagliato viene sostituito con un nuovo albero. Tale processo ciclico di coltivazione e taglio contribuisce a preservare l'equilibrio del carbonio, attenuando così l'effetto di gas serra sull'ecosistema. Questo però avviene solitamente per i legni, diciamo così, nostrani, come l'abete, il pioppo, il frassino, il rovere. Discorso ben diverso, invece, per i legni esotici, che spesso provengono da foreste vergini e la cui produzione determina deforestazione di ampi territori, provocando danni incalcolabili al nostro ecosistema. In ogni caso, per produrre legno bisogna tagliare alberi, e in molti questo produce un cortocircuito difficilmente gestibile. Il legno possiede proprietà meccaniche che lo rendono un materiale unico e prezioso per svariate applicazioni, inclusa la realizzazione di elementi strutturali, come appunto pilastri e travi. Queste proprietà derivano dalla sua struttura cellulare complessa e dalla composizione chimica, che gli conferiscono caratteristiche distintive di resistenza, elasticità e durabilità. La caratteristica principale del legno è che si tratta di un materiale anisotropo, cioè la sua capacità di resistere alle sollecitazioni non è uniforme in tutte le direzioni, ma varia in base alla direzione delle fibre. Generalmente il legno è più resistente lungo la fibra, cioè la direzione di crescita, che controfibra. Questa anisotropia fa sì che le tecniche di taglio e frazionamento dei tronchi siano determinanti per ottenere dei prodotti adatti ad usi strutturali, anche perché il taglio influisce sulla deformazione dei prodotti in seguito al ritiro, che è un fenomeno fisiologico dovuto alla perdita di umidità naturale del legno. Generalmente l'anisotropia si manifesta anche nello stesso verso delle fibre, ma con forze di segno opposto, cioè il legno tendenzialmente resiste meglio a compressione che a trazione. Ma non è sempre vero. Per le classi di resistenza più elevate i valori si equivalgono e a volte addirittura si invertono, dove per classi di resistenza si intende un sistema di classificazione del legno influenzato da fattori quali la specie, il grado di umidità, i difetti del legno e la geometria dell'elemento strutturale. In sintesi, il legno classificato come ad esempio T38, dove T sta per resistenza a trazione, è caratterizzato da una resistenza nominale caratteristica di 38 MPa ed è adatto quindi ad applicazioni strutturali e dove è richiesta una maggiore resistenza del materiale rispetto ad uno, che ne so, caratterizzato con T8, adatto ad applicazioni meno gravose. Da questo potete comprendere quanto sia complesso normalizzare e normare un materiale naturale come il legno. Vi lascio in descrizione l'estratto delle norme tecniche di costruzione NTC 2018 dove potete trovare questi valori. Nel tempo sono state sviluppate diverse tecniche per superare queste difficoltà derivanti da questa caratteristica come i multistrati compensati o i pani forti che incrociando le fibre nei diversi strati assicurano una resistenza più uniforme. Un'altra caratteristica che ha reso il legno un materiale prezioso nella storia dell'ingegneria è che ora più che mai sta tornando di grande attualità e la sua elasticità. Questa proprietà, come per altri materiali, è descritta dal modulo di elasticità o modulo di Yang e varia a seconda della specie del legno e della direzione del carico. Perché diciamo che è tornata di grande attualità? Perché l'alta elasticità del legno è particolarmente utile in aree geografiche soggette ad elevata sismicità poiché le strutture in legno possano assorbire e dissipare meglio l'energia dei terremoti rispetto a materiali più rigidi. Il legno mostra anche buone capacità di resistere a fatica ovvero la proprietà di sostenere cicli ripetuti di carichi senza subire danni permanenti. Questa caratteristica è particolarmente rilevante nelle strutture esposte a carichi dinamici o variabili nel tempo. La durezza del legno, che indica la resistenza alla penetrazione e all'abrasione, varia in maniera significativa tra le diverse specie. La durezza è importante per determinare la resistenza del legno all'usura e al danno superficiale. Aspetti rilevanti per pavimentazioni, mobili e superfici di lavoro. Il legno è un materiale che offre eccellenti proprietà isolanti in ambito edilizio e di ingegneria civile. La sua struttura cellulare naturale, costituita da fibre intrecciate, contribuisce a creare una barriera efficace contro il passaggio di calore e suono. Queste caratteristiche rendono il legno una scelta ideale per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e garantire un comfort abitativo ottimale. Veniamo alle note dolenti, cioè agli aspetti negativi che ne condizionano l'utilizzo. Come abbiamo detto all'inizio del video, il legno è un materiale naturale che, se non trattato correttamente, può essere soggetto a diversi problemi di durabilità. Il legno è suscettibile all'attacco di funghi, muffe, batteri ed altri organismi che possono deteriorarlo nel tempo. Questo fenomeno è più comune in ambienti umidi e caldi. L'esposizione a sostanze chimiche nocive presenti nell'ambiente, come agenti atmosferici, solventi, acidi o alcali, può causare il deterioramento chimico del legno, compromettendone la durabilità. La variazione di umidità e temperatura possono causare deformazioni e fessurazioni, specialmente se non è stato correttamente stagionato o trattato. Infine, gli insetti xilofagi, come i termiti, larve di colerotteri, cioè i comuni tarli per intenderci, possono danneggiare gravemente il legno nutrendosi del suo interno, compromettendo così la struttura e la sua resistenza. Per affrontare questi problemi e migliorare la durabilità del legno è comunque possibile adottare diverse soluzioni, tra cui l'applicazione di vernici, oli, cere o impregnanti protettivi, sia a base d'acqua che a base sintetica. I trattamenti possono essere sia superficiali che in autoclave, in modo che le sostanze protettive possano penetrare in profondità. L'utilizzo di trattamenti chimici specifici può proteggere il legno dall'attacco degli insetti e dei microrganismi, ad esempio trattamenti a base di insetticidi o fungicidi, possono essere applicati per prevenire il deterioramento biologico. L'adeguata stagionatura del legno può ridurre la probabilità di deformazioni e fessurazioni. Questo processo consiste nel lasciare asciugare il legno in modo controllato, permettendo alle tensioni interne di rilasciarsi gradualmente. In ogni caso, alcune specie di legno sono naturalmente più resistenti alla decomposizione e agli attacchi di insetti rispetto ad altre. Anche per il legno vale sempre la parola magica che molti guai previene, manutenzione. È importante eseguire una manutenzione regolare delle strutture in legno, controllando e riparando eventuali danni o segni di deterioramento prima che possano peggiorare. Per quanto riguarda i lati negativi, immagino già a cosa state pensando, al fuoco. E invece no, contrariamente a quanto si possa pensare, il legno ha un comportamento prevedibile al fuoco e può offrire buone prestazioni di resistenza, soprattutto quando si considerano elementi strutturali di dimensioni adeguate. Il legno brucia ad un tasso calcolabile e può mantenere la sua capacità portante per un tempo sufficiente a permettere interventi di emergenza. Sembrerà assurdo, ma il suo comportamento è molto migliore rispetto all'acciaio che tende a rammollire molto prima, perdendo molto in fretta la capacità portante. Cioè, pur essendo esso stesso un combustibile, una struttura in legno rimane in piedi molto più a lungo di una struttura in acciaio dimensionata per sostenere gli stessi pesi e sottoposta allo stesso carico di incendio. Ovviamente, se le strutture sia in legno che in acciaio vengono preventivamente trattate per resistere al fuoco, il loro comportamento migliora sensibilmente. In conclusione, le proprietà meccaniche del legno combinando resistenza, elasticità e durabilità lo rendono un materiale estremamente versatile e adatto ad un'ampia gamma di applicazioni costruttive, inclusa la realizzazione di elementi portanti. Pur essendo il più antico dei materiali da costruzione, il legno ha ancora molto da dare. La ricerca ed il mercato stanno proponendo diverse innovazioni che potrebbero essere molto utili per affrontare le sfide future. Come abbiamo detto all'inizio, questo potrà sembrare un video un po' scolastico ma è essenziale per fornire a tutti gli elementi per comprendere gli approfondimenti che andremo a trattare nei video futuri. A questo punto non ci rimane che salutarci e darci appuntamento al prossimo video. Arrivederci! Grazie! Grazie!